buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video e innanzitutto bentornati al canale b word 2.3 che cosa parleremo qui e ieri mi sono visto un film consigliato da un mio amico su facebook e questo film si chiama nope un film sugli alieni però che cosa c'è di veramente su questo nuovo film di diverso i soliti omettini verdi come li raffiguriamo sempre omanoidi oppure qualcos'altro beh innanzitutto ricapitoliamo negli episodi precedenti nel film recente cosa mi sono visto vi auguro una buona visione il film precedente era minions 2 come gru diventa cattivissimo giusto e me lo sono visto al cinema un paio di settimane fa mi sembra ah sì giusto l'otto agosto e avevo riassunto alcune scene trattate dal film di steve spielberg lo squalo invece oggi aspettate continuo ah giusto e su questo avevo riassunto anche una storia da minions minions 2 cattivissimo me cattivissimo me 2 cattivissimo me 3 poi avevo chiarito anche che cosa fossero i minions come creature alieni beh lo sono però sono omini gialli anziché i soliti omini verdi che noi raffiguriamo poiché nel film minions chiamato che è uscito nel 2005 erano prima di noi questi ometti ometti gialli qua fin dalla pre storia poi vi avevo riassunto come era l'inizio del film e tutto quanto ma invece oggi parleremo del nuovo film trattato sugli alieni chiamato nope e me lo sono visto ieri al cinema consigliato da un mio amico su facebook che gli è piaciuto e me l'ha consigliato di vederlo e io me lo sono visto guardiamo il trailer è grande quanto grande molto è veloce sono arrabbiati stai dicendo per caso quello che penso questa cosa non è quello che pensi è sopra di noi non credo che ti prendano se non lo guardi non guardare non guardare non guardare non guardare non guardare non guardare io cerco di salvare c'è mio fratello là fuori ecco qua su google chiaramente questo film ha cambiato le idee a qualcosa di nuovo in molti film abbiamo visto gli extraterrestri o gli ufo che fossero astronavi pilotati da altri esseri simili a noi ha cambiato infatti sono usciti molti film dedicati sia a questi oggetti volanti non identificati che fossero astronavi e anche esseri di altri mondi extraterrestri invece il film che mi sono visto io è qualcosa di rivoluzionario che cambia anche degli avvistamenti ufo come possono essere non solo delle astronavi ma degli organismi viventi nel cielo praticamente questo è qualcosa di nuovo non si è mai parlato come cosa sugli extraterrestri si era approfondito allora gli ufo che fossero astronavi navicelle o anche virus addirittura perché guardate ad esempio qua la quinta onda un virus alieno io non l'ho visto il film però ricordo la trama della descrizione anche i microorganismi extraterrestri ma un film di un organismo extraterrestre vivente nel cielo simile a una medusa non era mai uscito e questo è il primo sicuramente ora dettagliamo le analisi del film chiaramente questo film che mi sono visto ha ispirato al talento del famoso film di Steve Spielberg lo squalo ovviamente nella fantascienza gli ufo gli extraterrestri li abbia raffigurati come astronavi oppure o mini verdi o umanoidi simili a noi persone e poi le astronavi li abbia raffigurati in tante maniere ma come saranno nella vita reale? beh piuttosto improbabile che sia come li abbiamo visto nei film dovrebbero essere diverse ognuno ha un suo aspetto diverso eh delle astronavi abbiamo parlato ma poi ci sono anche le razze extraterrestri che abbiamo considerato tipo i marziani di Mars Attack Mars Attack che hanno questo aspetto oppure un famoso film horror chiamato Alien che io non mi sono mai visto praticamente però il più bel film che mi sono visto sugli extraterrestri è sicuramente questo è Tile extraterrestre davvero bellissimo poiché come extraterrestri non ci sono solo umanoidi ma pure microorganismi unicellulari cioè cosa sto parlando? di virus o batteri extraterrestri e questo nella vita reale possono esistere come? basandosi sulle lune dei satelliti tipo Giove e Europa o altri pianeti simili però la domanda più importante di tutte è questa qua che cos'è questo alieno di questo film? Nope una nuvola? beh poiché nel film ero confuso perché sentivo le urla tipo come le sirene ma non avrebbe senso perché gli UFO sarebbero silenziosi e non farebbero rumore quindi che cos'era? poi malmano ho notato qua ma che cos'è un disco volante qua? quello classico? no nemmeno ma allora che cos'è? beh un organismo extraterrestre vivente sul cielo metallico che sarebbe come una sorta di medusa quindi nel film io avevo sentito qua non è un'astronave io mi sono chiesto allora che cos'è? una sonda? nemmeno e allora cosa? alla fine l'ho scoperto propriamente un animale nel cielo una medusa praticamente una medusa extraterrestre nel cielo e l'antagonista chiamato Gene Jagget praticamente nel film c'è qualcosa di reale cosa? che hanno parlato dei famosi avvistamenti UFO nella vita reale degli avvistamenti della marina militare statunitense chiamati oggi UAP che uno ha detto oggi non li chiamano più UFO ma UAP che è il nuovo termine acronimo ex UFO chiamato un identario fenomeno fenomeni aerei non identificati ok direi che posso concludere qui d'accordo? beh ragazzi spero tanto che questo video vende di ovviamente ieri mi sono visto il nuovo film sugli alieni nope vi sia piaciuto iscrivetevi al mio canale mi raccomando mettete un bel like e noi ci sentiamo alla prossima d'accordo ciao ciao